Viaggiare in treno. Lei viaggia in treno? Sì, sì, più o meno. Io l'ultima volta che ho preso il treno sono arrivato in stazione e il mio treno ancora non era arrivato. Per fortuna ero a Milano Centrale, e Milano Centrale nelle grandi stazioni, sai come passare il tempo, c'è tutto, centri commerciali, edicola, c'è tutto, tranne il tuo treno. A Milano, giuro che è vero, c'è persino il Museo delle Cere, sapeva? No! Sì, ci sono stato, ci sono tutte le statue così che guardano loro come dire, ma il mio treno vado da chi arriva. Cioè, no perché, la maggior parte dei treni in Italia sono in ritardo, oramai anche i bambini non chiedono più il trenino a Babbo Natale perché hanno paura che gli arrivi a fare.